Nella magica atmosfera della Corte del Sole, antica masseria alle spalle degli scavi di Eloro, il ristorante Le Muse, un ambiente unico, per i palati più esigenti. Dall'antica memoria della cucina siciliana, arricchita da ricette che attingono alla cultura e alla tradizione del nostro territorio, scoprirete colori, sapori e profumi che il nostro chef Fabrizio Montaldo rievoca nella sua tavola, utilizzando prodotti a chilometri zero, cioè coltivati e raccolti nel Val di Noto, per offrirvi piatti originali che seguono l'alternarsi delle stagioni. Lasciatevi sedurre dalla nostra raffinata cucina, circondati dalla suggestiva cornice dell'Oasi di Vendicari, dove rilassanti sensazioni visive e i delicati sapori, esaltati dai migliori vini della nostra cantina, rievocheranno antiche e piacevoli emozioni. Ristorante Lemuse, storia, tradizioni e professionalità in unico e incantevole scenario. Il ristorante Lemuse vi aspetta in contrada Bukachemi e Loro, a Lido di Noto, lungo la strada provinciale 19, presso l'hotel La Corte del Sole.